Sì ragazzi benvenuti in questo video, siamo qui su Fil17 nella nostra carriera con Crystal Palace Se niente raga abbiamo subito la partita contro Chelsea e andiamo a fare la fottuta programmazione Intanto credo che comincerò a fare 3 partiti a video però con 2 giocate e una simulata Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, intanto io per questo episodio lo faccio perché abbiamo Watford e poi Arsenal Quindi ci andiamo a giocare Chelsea e quindi Arsenal simulando Watford Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, noi andiamo subito in campo Eccoci qui ancora al Sailor Spark, tutto pronto, inizia Crystal Palace, Chelsea Caccia inizio per noi, dai cazzo raga, riprendiamoci dall'ultima sconfitta che ricordo è contro il Manchester United Ma siamo comunque in prima posizione, teniamocela, dai cazzo Crystal Redley, Savic, Ventiche, Redley, Flameny, Redley, ci prova, attraversa, oddio, ancora Flameny Savic si prova da qui, centrale, Begovic, sicuro, Townsend, attenzione a Townsend, si allunga, si gira bene Townsend, prova per Flameny, deviata poi già, che cazzo, attenzione Grandissimo Terry Mamma mia raga Che carambola, che finisce in porta, 1-0 Crystal E il Chelsea è sotto al diciannovesimo, boom Svirgola già, Terry Tocca per non far arrivare l'Headley, ma lo butta nella sua porta Grandissimo, il capitano, otto gol, diciannovesimo minuto, 1-0 Crystal Matovic, Michele Vardi, attenzione qui, Michele Obi, Obi, il tiro, Mandanda, per un cerchio Vardi Hazard, Mandanda, oddio, ancora Super Mandanda Ancora lui, mamma mia raga Dai Zaa Vado per ben te, che sbaglia qui, attenzione a Chelsea Tutto in avanti Si liquida, fermato da Savic, in modo falloso Hazard, Hazard dalla battuta Attenzione perché da lì potrebbe provarci Alta Flameny Beyerin Townsend, ci prova Fuori, deviata, dai cazzo Flameny Da me Terugani anticipato Tonkins Ben te, che cazzo fate Hazard, ancora Eden Beyerin Flameny Townsend Flameny Vado per Beyerin Beyerin anticipato Finisce il primo tempo 1-0 Crystal Con L'altro gol di Terry Che per ora è decisivo Dai Crystal Chiudiamo questa partita e facciamolo Con Lex Con Remy Poi mettiamo anche Pulsen qui Dai cazzo Dai Crystal Affermiamoci Nella nostra fottutissima prima posizione Caccia inizia del Chelsea Inizia il fottutissimo Secondo tempo Savic Non la tiene Però subisce fallo Dai cazzo Dai Savic Dai Savic C'è una di potenza Oddio Bekovic Caccio d'angolo Flameny La mette C'è Pulsen Che non riesce a tuttare Per Flameny La rimette dentro Pulsen Ancora La difesa Flameny La mette Che cazzo è sto coso Terry Oddio Attenzione Hazard Attenzione Hazard Attenzione Attenzione Costa Vaffanculo Non ci credo Hanno fatto un tiro in porta Uno Ma dai Ma dai Sempre così Ma che cazzo Dai cazzo Ultra offensiva Vaffanculo Dobbiamo segnare Ward Palla per Zaa Savic Pulsen Zaa Attenzione Attenzione Remy Remy no sbagliare Vaffanculo Edro la mette Manda andà Dai cazzo Vai subito Lunga No cazzo Finisce qui La partita E ancora una volta Dominiamo Ma Ci raggiungono Vabbè le statistiche Sono sballate Tutte punizioni di merda Di Hazard Quelle Vabbè raga Simuliamoci Il Wattford E poi ci andiamo a giocare Il fottutissimo match Contro l'Arsenal Ok raga Simuliamola subito Facciamo Una cosa veloce Che voglia Di vincere Contro l'Arsenal Almeno ce ne portiamo A casa Attenzione Vinciamo Grazie a Thousand Sto dicendo Almeno ce ne portiamo A casa Una Importante Sperando di vincerla Naturalmente Ok andiamo subito Fare la nostra conferenza Stampa Mentre qui Attenzione Guardate un po' Chi mi ha accettato Ledger Il contratto di 4 anni Contratto Quasi A vita Perché Credo Terminerà La carriera Qui Quindi Sti gran cazzo Intanto Fanculo Non ho trovato La conferenza Quindi non la facciamo Eccolo qui Fanculo Oddio no vabbè Un giorno dopo L'Arsenal C'è lo suonzi Ma come cazzo Stiamo messi dai Motiviamo La nostra squadra L'Arsenal Sto dicendo Appiamo a chi cazzo Ti vuole Sinceramente Ok Andiamo subito Al nostro Arsenal Faccio la formazione Ci vediamo Direttamente in campo Tanto 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 Non cambia un cazzo Quindi Andiamo Eccoci qui raga Tutto pronto Dall'Emerite Stadium Siamo Pronti Per iniziare Arsenal Crystal Palace Carciunizio Affidato All'Arsenal Santi Cazorla Attenzione Rugani c'è Attenzione Rugani Rugani Palla per Bente Che ci prova Check Ramparata Poi Decidio La rimette C'è Remy Anticipato Savic Toli su Telemans Buttalo giù Senza fallo Volcott Volcott Ancora Volcott La mette Bellerin Attenzione Calcio d'angolo Per l'Arsenal Santi Cazorla La battuta Alexis Sanchez Liva A dare una mano Sanchez Sanchez Ancora Sanchez Sanchez La dà Papadopoulos Decidio Savic Toi su Savic Zà Palla per Decidio Ancora Toi su Palla per Zà Benteke Ancora Zà Dai cazzo C'è Savic Lo vede Zà 1-0 Crystal Mamma mia Raga Trentasesesimo Il Crystal Vola Grandissimo Qui Boom Zà Per Savic Boom 1-0 Boom Boom Dai Char Non la prendi Attenzione A Coqlan Allora Vola Cotto Ancora Coqlan La mette Rogani Poi Char 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 Cazzo 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 Sanchez Mandanda Mandanda Mamma mia Dai cazzo Chiudiamo bene il primo tempo Chiudiamo bene il primo tempo Benteke Va lui Ci sono i nanetti in barriera Benteke Tensione Check Grandissimo Peter Check qui Che si supera Finisce Così però Anche il primo tempo Dai cazzo raga Facciamo Nessunissimo Fottutissimo cambio Vabbè lo facciamo Dopo Tielemans La mette Remi Svetta Oddio Fa tremare la porta Zaa Poi deciglio Togli su Ancora Attenzione Remi Papadopoulos Ancora Mamma mia Zaa Polsen Savic Palla per Remi Remi la mette Polsen Polsen 2 a 0 Attenzione Yusuf Cambio super azzeccato E ancora Double Dance Perché Ormai non mi viene Da premere arti Pussanti Quanto è su tutto Mamma mia Polsen Riesce a tenere la cosa In aria Papadopoulos Stavolta Sbaglio Attenzione Autogod Di Papadopoulos Non ci credo Mene la vita Zaa Polsen Ledley Polsen Torisso Zaa Ancora Azione Corale Del Crystal Zaa Qua da fuori Ma check la tocca Ledley La mette Lui Savic Check ancora Attenzione Todisso Gira per Zaa Zaa Vede Polsen Cazzo Fatto Madonna No vabbè Finisce qui 2 a 0 Crystal Palace E ci teniamo Così La prima posizione Ben stretta Andiamo subito A vedere la nostra Situazione classifica Ed eccoci qui raga Dopo Ben 19 Partite Siamo In prima posizione A 9 punti Di vantaggio Sul Chelsea Tutti che sono Mentre ci sono Ben 4 squadre 35 punti Madonna Chelsea United Tottenham E Middlesbrug Attenzione Ci sono Due rivelazioni Crystal E Middlesbrug Middlesbrug In questo campionato Vabbè raga Noi Cercheremo Di tenerla Fra poco C'è il mercato Anzi Già c'è Quindi Ci vediamo Subito Subito Poi Ci vediamo Nel prossimo Episodio E niente Raga Per oggi è tutto Se questo video Vi è piaciuto Lasciate un like Comment Iscriviti al canale Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti